Un sentiero accidentato sale attraverso la foresta e ci porta al crinale che si raggiunge dopo circa un'ora di cammino. Siamo sul grande gioco che collega il falterona all'eremo di Camaldoli. Da quassù si gode una splendida vista. Qualcosa di infinitamente dolce e rasserenante si impossessa di voi. Vi sentite abbastanza in alto per giudicare gli uomini ma non tanto da dimenticarne l'esistenza. Procedendo verso oriente ci si imbatte nei resti di un'antica strada militare che il console Flaminio fece fare ai suoi soldati dopo le vittorie sui Liguri e gli Apuani. Per questa via, chiamata Giugana. Passò anche il grande condottiero cartaginese Annibale col suo esercito di uomini, cavalli ed elefanti per raggiungere il Trasiveno dove sconfisso l'esercito di Roma. Si. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti